Siamo davanti a questo edificio, confiscato alla mafia quasi vent'anni fa, l'avete gestito per alcuni anni, cosa succede adesso? Cosa avete fatto e cosa rischia di succedere? L'abbiamo gestito negli ultimi cinque anni attraverso un patto di collaborazione stipulato con l'associazione Circo e con la vecchia amministrazione. In questi cinque anni abbiamo trasformato questo bene confiscato in un bene comune. Bene comune vuol dire inserire tutta una serie di attività che possono essere utilizzate dalla cittadinanza, dagli studenti e dalle sue azioni. In primo luogo ne hanno utilizzato le scuole, qui hanno fatto pagine di storia, abbiamo creato un giardino da memoria, hanno conosciuto chi è peppino impastato, chi è la scorta di Paolo Borsellino, gli uomini, le donne, la scorta di Paolo Borsellino, hanno conosciuto tantissime altre vittime della mafia e loro hanno dedicato un albero che è già presente in villa. Abbiamo creato un orto didattico, un tetto didattico, abbiamo creato un campo seminativo didattico con cui abbiamo fatto in un anno il pane. Partendo dai semi vari abbiamo fatto un pane buonissimo, arrivando fino alla trebbiatura fino al pane. Cosa è successo negli ultimi mesi? Negli ultimi mesi è successo che la giunta comunale che nel frattempo è cambiata, quindi non ha partecipato al patto, ma deve comunque rispettarlo, ha deciso di abbattere questo bene. Abbatterlo senza consultarci, bypassandoci, raccontando una serie di fregnacce in giro, del tipo che l'Agenzia per i confiscati ci ha dato di parere favorevole, cosa che non era vero. Abbiamo verificato a settembre e a ottobre che questo parere non c'era tra le carte che abbiamo visto in comune e loro attraverso questa scusa hanno infinocchiato il Consiglio Comunale, compresa l'opposizione fatta dal PD. E quindi voi dove andreste? Noi andiamo da nessuna parte, perché la politica, quella con la P minuscola, si è mossa tutta quanta all'unisolo con l'idea di proteggerci e di darci l'alternativa. Ma non esiste un comitato che ha un altro nome, esiste il comitato Molise V, che nasce per difendere questo bene, per ridarlo alla cittadinanza. Non ci può essere un comitato lì là o dei pioppi o quant'altro, non esiste. E questo l'abbiamo spiegato, dovuto spiegare con forza, ai sindaci del territorio, che non capiscono su questo una minchia, perché sono dediti al compromesso. E questo è il problema. Io poi sono terra a terra. Va bene, Pino, a che punto si è della lotta? Siamo a un punto quasi finale, che potrebbe essere anche di non ritorno, nel senso che il 31 dicembre di quest'anno scade per noi la possibilità concordata di restare in questo parco. Il primo di gennaio c'è già, come dire, in programma un piano di lavoro che prevede già a febbraio l'ingresso delle ruspe. Quindi siamo molto, ma molto in ritardo. Siamo molto in ritardo perché ci sono mancati, come dire, le informazioni minimali. Perché noi abbiamo scoperto a giugno che questo bene veniva abbattuto unicamente perché degli operai, ma anche dal comune, mentre c'era un campo estivo hanno fatto i carotaggi al terreno. Ecco, per mandare un messaggio alla popolazione intorno, che sia di Rozzano, che sia di Milano, che sia del circondario, cosa puoi dire? Allora, il messaggio è quello di starci vicino. Perché abbattere questo bene vuol dire avere una grave perdita nel nostro territorio. In pratica viene cancellata l'unica memoria storica di presidio di legalità che dà i suoi frutti. Perché qui sono passati, come dire, le scuole, sono passati i giovani, sono passati anche i detenuti del carcere di opera a fare giustizia riparativa, ok? E l'hanno fatto con grandissimi risultati per loro e per noi in particolare. E quindi sarebbe una grave perdita. Che cosa vuol fare? Il comune ha pensato di fare una bellissima cosa. In questo posto che è fatto di villette, no? Di gente che sta bene, anche con piscine, ok? Benissimo. Lo abbatte giù e ci fa, come dire, una serie a piano terra, una serie di uffici dedicati a che cosa? Dedicati al contrasto per la povertà. Quindi tu immagina il povero che viene qua, no? Che sta cercando una situazione abitativa, passa in un posto di ville, no? Non c'è neanche, come dire, la benché minima... Benché minimo riconoscimento delle persone per quello che possono provare. Zero, nulla, no? E poi, per creare questa cosa qui, Rozzano ha tantissimi posti che si possono utilizzare. Ma tantissimi posti. E tu un posto per contrastare i poveri, la povertà, scusami, lo fai dove ci stanno i poveri, non dove ci stanno i ricchi. Beh, l'Agenzia dei Beni Confiscati, su questa nostra obiezione, ok? Ci ha spiazzato. Voi siete razzisti. A me la cosa che ha spiazzato dell'incontro con l'Agenzia dei Beni Confiscati, non ce l'ho, ma me l'hanno raccontato, è il fatto che il Sindaco e l'Agenzia dei Beni Confiscati parlassero la stessa identica lingua. Questo mi ha davvero spiazzato. E io continuo a pensare, come mai? Che cosa può essere successo? A me piacerebbe incontrare qualche giornalista di inchiesta. Pino, siamo con voi, vi appoggeremo il più possibile. Grazie. Grazie, grazie, grazie Andrea.